Sette nuove scuole bus inaugurate a Montevarchi in vista del prossimo anno scolastico. Mezzi all'avanguardia per ospitare anche portatori di qualsiasi disabilità senza problemi. Nell'occasione è rinnovato anche l'accordo con Pluriservizi per altri dieci anni. La nostra politica è di messa in sicurezza prima degli edifici scolastici e naturalmente adesso continuiamo anche con i mezzi perché avevamo dei mezzi molto obsolesi e non garantivano più il decoro, la sicurezza e la qualità che erano giusti per i nostri bambini. Grazie all'accordo fatto con Pluriservizi, società in house con la quale collaboriamo anche per la mensa, quindi una società che ricordo di cui il comune ha diverse quote, ci sarà la possibilità per i nostri bambini di usufruire di 7 nuovi mezzi più ampi rispetto a quelli precedenti, quindi con una portata maggiore, verrà riorganizzato in maniera più efficiente tutto il servizio. Una cosa a cui tengo molto è che questi pulmini avranno la possibilità di portare a scuola insieme a tutti gli altri bambini anche quelli che hanno difficoltà a motore. Sono 7 pulmini che hanno una tecnologia attuale, moderna e sicura. Siamo andati a sostituire dei mezzi che avevano 21 anni, 560 mila chilometri, che non erano più idonei. Alcuni genitori si lamentavano non avevano le cinture di sicurezza, per forza non erano previste allora le cinture di sicurezza. Questi hanno tutti i sistemi di sicurezza previsti oggi nel codice della strada, quindi abbiamo preferito fare un investimento di genere. Questi mezzi portano 35 bambini l'uno. Vorrei tanto che i bambini che vanno a scuola, studiano lo stesso argomento, possono anche divertirsi nel pulmino, perché io credo che il viaggio in pulmino sia un momento epocale di chi ha frequentato la scuola e chi ha dovuto prendere il pulmino.